Amici, ciao, benvenuti o bentornati sul canale, io sono Giulia, per chi non mi conoscesse oggi siamo qui riuniti perché devo raccontarvi una delle esperienze più importanti e più belle che mi siano mai capitate da quando ho aperto a Laughing Willow. Tenetevi pronti, ho incontrato e intervistato Alberto Angela. Io. Cioè, proprio io. Ovviamente non così per caso, ma perché HarperCollins ha deciso di farmi partecipare a questa bellissima iniziativa e il tutto si è svolto a Napoli, al MAN, il museo archeologico. Io sono ancora in credula, devo essere sincera. Ormai è successo qualche settimana e la fa, però sia prima del viaggio che dopo mi sono ammalata, ho preso la febbre a 39, una febbre da cavallo allucinante e successivamente un bel virus gastrointestinale, cioè immaginatevi i virus che giocavano a freccette con me, un bel tabellone, il centro rosso qui in mezzo e finché non muori Giulia ti pigliamo ammazzate. Questa era la situazione, però ora che sono risorta dalle mie ceneri posso raccontarvi finalmente tutto. Partiamo dalla chiamata con HarperCollins. Al telefono mi dicono Ascolta Giulia, tu saresti interessata a partecipare a questo evento con Alberto Angela? Mi scusi, non ho capito, con chi? Alberto Angela. E mi chiedete se sono interessata a partecipare? Cioè, io due secondi dopo avevo le valigie pronte, anche se in realtà mancava un mese. Poi nulla, mi sono ammalata ed ero terrorizzata dall'idea di non partire, anche perché io anche solo due giorni prima dell'evento ero ridotta così. Il mio accompagnatore sarebbe dovuto essere il mio moroso, ma ovviamente sfiga vuole che si sia preso tutto quello che avevo preso anch'io, essendosi ammalato dopo di me e anche guarito dopo di me e non è potuto venire con me a Napoli. Per fortuna c'erano i miei genitori che gli stessi giorni sarebbero venuti a Napoli e quindi alla fine è stata un po' una sorta di vacanza di famiglia. Ad ogni modo, dopo questa partenza incerta, sono partita, ho messo la quarta e sono partita finalmente. Sono partita il 23 di febbraio da Bologna, la mia città, e mi sono fatta, mi sono sparata, beh, in quattro ore di treno. Per me i viaggi lunghi sono sempre piacevolissimi perché sono un momento in cui io posso veramente ritagliarmi del tempo o per leggere oppure per riflettere, stare in pace con me stessa, perché tanto comunque sono obbligata a stare ferma e quindi nulla, in realtà io mi sento molto serena durante i viaggi lunghi. In quel caso, cioè nel caso del viaggio fino a Napoli, in realtà non ho potuto leggere perché ho fatto amicizia con tutto il vagone da brava, estroversa e logorroica e quindi alla fine ho chiacchierato per tutte le quattro ore del viaggio. La prima sera ero emozionatissima, molto agitata perché era la prima volta che partecipavo a un'iniziativa del genere e soprattutto perché non conoscevo nessuno. Poi però quando ho incontrato le referenti di HarperCollins, che sono poi state con noi per tutta l'esperienza e i colleghi di TikTok, Instagram e YouTube, in realtà mi sono rilassata molto perché, vabbè, a parte che io faccio amicizia molto molto facilmente, non mi trovo in difficoltà a interloquire con persone nuove, però si sono proprio rivelate essere persone super gentili, disponibili, mega creative, stimolanti, amichevoli, super accoglienti, insomma mi sono trovata benissimo sin da subito. Soprattutto mi sono sentita capita, mi sono sentita come a casa, parlavamo tutti la stessa lingua e questo proprio mi ha trasmesso tantissima carica anche per partire con il piede giusto per l'evento del giorno dopo. Abbiamo soggiornato in uno splendido hotel sul mare, super suggestivo, il giorno del 24, quindi il giorno dopo questa prima cena con tutti i ragazzi, e mi sono ritrovata a fare colazione veramente con una miseria, anche se c'era una colazione super abbondante a buffet che davvero se fosse stata nella norma avrei taffiato tutto, però nulla, dato che ero un po' agitata con lo stomaco chiuso, ho mangiato proprio due cosine così e dopo questa colazione poco abbondante abbiamo fatto una passeggiata io e mia madre nel lungomare in attesa del pomeriggio che sarebbe poi stato il momento in cui si sarebbe svolto il tutto. Quindi nulla, alla fine abbiamo pranzato, ci siamo recati al man e lì c'era lui. Appena entratosi sono sentiti i canti degli angeli così e sembrava che si muovesse al rallentatore mentre veniva verso di noi a stringerci la mano e addirittura se non sbaglio io ho proprio un video mentre lui stava arrivando a stringermi la mano che ho subito interrotto per effettivamente stringergli la mano. Si presenta a tutti e ci dice che è super contento di incontrarci, di poter fare questa esperienza insieme a noi, cioè lui lo diceva a noi, rendiamoci conto, noi siamo contenti di passare questo tempo con te e ci diceva che sarebbe poi appunto stato la nostra guida per tutta la giornata e che ci avrebbe parlato di Nerone chiaramente perché è uscito il suo nuovo libro in merito e che quindi insomma a sostegno di tutta la sua storia, di tutta la sua narrazione ci sarebbero state poi le vere e proprie opere che c'erano al Mann. Il libro è questo qui ed è il terzo di una trilogia. Il primo della trilogia è L'ultimo giorno di Roma che appunto parla di Roma prima dell'incendio, poi c'è L'incendio su Roma che è il secondo che appunto parla dell'incendio vero e proprio e l'ultimo, il terzo, è Nerone che parla appunto della storia di Nerone fino alla sua morte e chiaramente di Roma post incendio. Devo essere sincera, nonostante la mia principale fonte di nutrimento siano i saggi e tutte le informazioni di carattere generale di tutti gli ambiti, non mi ero mai approcciata veramente a libri storici, saggi storici come questo qui. Sono sempre stata un po' scettica, non li ho mai presi in considerazione più di tanto, li ho sempre guardati da debita a distanza perché probabilmente pensavo fossero noiosi. A differenza invece dei documentari che invece li ho sempre reputati molto più fruibili e quindi mi hanno sempre appassionato di più, anche a livello storico in realtà. Però io dopo questo libro, dopo Nerone di Angela, sinceramente mi sono ricreduta completamente. Sarà per il suo approccio così ironico, coinvolgente, semplice, diretto, chiaro anche alle persone che non sanno assolutamente nulla eventualmente anche di questa parentesi storica tipo me. Sarà perché Alberto Angela è in grado di accorciare le distanze tra presente e passato, ma non solo tra presente e passato, anche proprio tra generazioni. Sarà per tutto quello che volete, ma a me questo libro è piaciuto. Ci si sente vicini alla storia e ci si sente forse proprio attratti dalla storia in sé. Lo stile è incalzante, scorrevole e tutti i fatti sono riportati in maniera molto chiara e estremamente funzionale. Non avendo letto tra l'altro i libri precedenti, posso affermare che comunque questo libro si può leggere indipendentemente dagli altri, nel senso che io mi sono fatta ovviamente un pochettino di background storico e culturale per riuscire a contestualizzare meglio tutta la storia, però non ho letto nell'effettivo gli altri testi e questo comunque sono riuscita ad assimilarlo molto molto bene. Se la storia di Nerone attraverso le parole, quindi attraverso il libro di Alberto Angela mi aveva già appassionato così tanto, figuratevi quando poi mi è stata spiegata da Alberto Angela stesso durante tutta la visita al Mann. Io ero tipo con gli occhi a cuoricino che ascoltavo incantata tutta la spiegazione, tutta la narrazione. In breve Nerone sale al potere molto giovane, più o meno quando aveva 16 anni e muore anche molto giovane, più o meno a 30. Sicuramente era inesperto ma era comunque affiancato da figure molto molto importanti, molto rilevanti e capaci come per esempio sua madre Seneca e altri che adesso purtroppo mi sfuggono. Nerone era un innovatore ed era anche una persona molto originale, amava l'arte, aveva tantissime passioni, ad esempio suonava la cetra e altri strumenti, addirittura in pubblico quindi amava anche coinvolgere la gente. Gli piaceva la velocità, era insomma una sorta di pilota di Formula 1 con i cavalli, partecipò anche ai giochi olimpici, vestiva alla moda perché si vestiva in maniera molto originale e infine gli piaceva anche il teatro. Di lui si sa che non era un fan della guerra, non gli piaceva la guerra, cercava costantemente la pace. Però ovviamente come tutti gli altri imperatori era un uomo molto molto feroce, pensate anche che uccise sia sua moglie che sua madre, quindi insomma, non è che proprio fosse uno stinco di santo. Ci sono però chiaramente anche tante fake news su Nerone che circolano, ci dice Alberto Angela, come ad esempio il fatto che lui effettivamente abbia dato fuoco a Roma e che abbia addirittura cantato sull'aroma che bruciava. Non è così. Secondo Angela infatti è stata una lucerna a cadere nel punto sbagliato che poi purtroppo ha piccato il fuoco, da fuoco nasce fuoco e si è incendiato tutto. Tra l'altro Nerone era anche molto amato dal popolo perché lui era solito coinvolgere il popolo, non faceva mai mancare il cibo, organizzava appunto corse con i cavalli a cui potevano assistere anche tutte le persone comuni e quindi intratteneva e coinvolgeva la popolazione. Dopo l'incendio addirittura si prese la briga di aprire, diciamo così, le porte del potere, le sue ricchezze per cercare di aiutare quanto più possibile tutte le persone che insomma erano rimaste senza nulla. Cerca poi di ricostruire tutto, di ricostruire l'intera Roma. Un'altra fake news che si diceva appunto era che lui avesse incendiato Roma per poi ricostruirla e chiamarla Neropolis. Ovviamente non è stato così anche perché poi si impegna molto per cercare di ripristinare il più possibile, addirittura fa ancora di più, cioè cerca di trasformare Roma in un posto ricco, in un posto ricco per tutti in realtà perché costruisce grandi zone verdi, grandi strade, strutture, palazzi, porticati e tutto il resto. Chi più ne ha più ne metta. Donando tutta questa ricchezza nell'effettivo al popolo, in realtà però lui viene mal visto da tutti i ricchi, dai senatori e da tutti quelli che gli stavano intorno perché era troppo innovatore, troppo tutto. Diciamo che avevano paura di tutti questi cambiamenti e in tutto ciò lui per quanto riguarda l'incendio di Roma dà la colpa ai cristiani, cioè cerca qualcuno a cui dare la colpa, piglia di mira loro e va, carica. La motivazione probabilmente, come ci spiega Alberto, per la quale lui ha preso di mira i cristiani è che erano comunque una comunità molto piccola che rimaneva, diciamo, esterna, estragnata dal tessuto sociale e quindi automaticamente erano un semplice e super attaccabile capro espiatorio e quindi, insomma, punto lì. Fu un'azione molto chirurgica, quindi vennero incolpati, processati, incarcerati, venne fatta l'esecuzione e tra l'altro proprio in quell'esecuzione fu processato e ucciso anche Pietro. Pensate quindi come una lucerna abbia effettivamente fatto la differenza, cioè la religione sarebbe stata così, saremmo stati noi così, l'Italia, Roma, tutto sarebbe stato uguale se questa famosa lucerna non fosse caduta e non avesse incendiato tutto, ce lo dice meglio Alberto. E la storia va avanti. Quindi un mega effetto farfalla. Un mega effetto farfalla. Allora ci si chiede, ma se non fosse caduta quella lucerna, cosa sarebbe successo? La religione cristiana sarebbe quella che conosciamo noi oggi? Forse sì, forse no. Non ci sarebbe comunque San Pietro. Ci sarebbe stato San Paolo, quindi la cattedrale, la basilica. Ecco, ce lo possiamo chiedere. Ci sarebbero state... L'impero serventato cristiano, quindi, non so, le crociate, le conversioni di tutto il mondo, Sud America, eccetera, in Africa, eccetera. Ce lo possiamo chiedere. Quali sarebbero i nostri nomi adesso? Quale grande tempio di culto avremmo a Roma? C'è la basilica San Pietro. Se non fosse caduta l'ecenna ci sarebbe forse stata un'altra religione, il mitraismo, Sol Invictus, eccetera. Non lo sappiamo. Però quello che è certo è che la storia della cristianità è stata molto influenzata da questo evento. Tecnicamente questo ti fa capire come il caso nella storia, voglio dire molto, perché senza quella lucerna noi non ci saremmo, ci sarebbero altre persone, e tante persone non ci sono state perché adesso ci siamo noi. Ma questo vale per tutta la storia. Ci sono altri momenti che potremmo chiamare di sliding doors. A volte la prima guerra mondiale nasce per un omicidio, ma se non ci fosse stato quello, o se il colpo fosse andato vicino e non l'avesse ucciso. Guardiamo quante storie parallele non sono mai esistite o sono esistite grazie al caso. La famosa battito d'Ali, una farfalle, eccetera. Però l'errore sta nel credere che quell'evento abbia cambiato tutto. In realtà ogni secondo ci sono degli eventi che cambiano cose. Quindi sì, quello hai colpito un punto per cui vedi un percorso, ma sai quanti altri ce ne sono stati in parallelo? Magari sarebbe stata un'altra strada poi che avrebbe portato allo stesso punto. Sicuramente, ma questo vi dice una cosa, che tutti noi siamo frutto un po' del caso. Anche la nostra singola nascita è dovuta a un evento molto preciso, che non fosse successo, eccetera. Quindi, un'altra cosa di questo tipo è una volta quando facevamo per esempio lo sbarchio in Normandia, che filmavamo queste distese di croci nei cimiteri americani, eccetera, e mi sono detto, questi non sono soltanto dei ragazzi morti, che è una cosa drammatica, è molto di più, perché loro non si sono sposati e non ci sono famiglie nate, non ci sono dei figli che sono nati. Di conseguenza, tante persone non esistono per quel proiettile che ha avuto, ma tante, e via dicendo. Quindi ecco, ci sono, questo è un esempio di come la storia segue ogni volta dei rivoli diversi, il caso, possiamo chiamarlo lui, è la penna maestra dei nostri libri di storia. Bellissimo, bellissimo. Io ci tenevo anche a dire che secondo me è importantissimo avere persone come te che appunto rendono, tagliano, accorciano la distanza non solo col passato, ma anche con tematiche che altrimenti rimarrebbero molto lontane da persone comuni come me, magari che non studiano questi settori. Scusate se vi intrometto, ci tenevo soltanto a sottolineare una cosa che adesso dice Alberto, che mi è piaciuta tantissimo, e mi sono anche sentita presa un cicinino in considerazione. Lui dice che non è necessario essere professionisti o studiosi di determinati settori per poter in qualche modo, secondo me, arricchirsi e poi trasmettere concetti, argomenti, informazioni. Ovviamente è necessario il supporto dei professionisti attraverso i loro libri, magari come quello di Alberto Angela, ma è anche bella la creatività. E io, ripeto, mi sono sentita un pochino presa in causa e mi è piaciuto molto questo discorso, mi ha scaldato il cuore. E nulla, vi lascio nuovamente alle sue parole. Posso dire una cosa? Molti di noi pensano che bisogna essere, diciamo, degli esperti, delle persone che hanno scritto libri, degli storici, ma è vero, gli storici sono persone che ti aiutano a capire, perché se no tu ti fossilizzi su una sola cosa e in realtà è molto bene. Però è bello che ognuno di noi può essere uno storico, può essere un curioso, può essere un astronauta nel passato e scopre delle cose. Io ho una formazione da naturalista, quindi i ritmi della natura li vedo, che si respira la natura e lì noto subito, ma chi è appassionato di polizieschi va a vedere dei dettagli, quegli indizi e riesce a arrivare. Questo lo potete fare, chiunque lo può fare, nel senso di porsi delle domande senza dover essere per forza uno studioso esperto del settore, però le domande te le puoi chiedere, te le puoi porre, poi magari puoi contattare un esperto per avere una conferma e da lì si va avanti. Ma è molto bello che spesso all'origine dei miei libri e anche dei servizi televisivi ci sono delle domande e le domande è come dire out of the box, cioè pensiamo un po' fuori. Che cosa, nel senso, ok, questo è quello che hanno sempre detto, però vedo che ci sono delle cose che non combaciano e se fosse così chiama l'esperto e lui dice sì, effettivamente è questo. Diciamo, gli esperti sono fondamentali, ma la creatività lo è anche, quindi quando si uniscono le due cose si scopre tanto del nostro passato. Perfetto, grazie mille. A voi. Che dire, se non che sono super felice, che sono ancora emozionata per questa bellissima opportunità che mi è stata data. In realtà avrei tante cose da dire, io sono una persona logorroica, quindi cosa dico che non c'è niente da dire? Anche perché c'è una cosa molto importante che vi devo dire, ossia che siamo finiti sul giornale. Non me lo aspettavo assolutamente, una persona su Instagram mi ha scritto, mi ha inviato una foto del mio faccione sul giornale e quindi sono corsa in giro per tutta Napoli a cercare un'edizione della Repubblica. Non lo trovavo da nessuna parte, per fortuna l'ultima edicola in cui riponevo le mie speranze me l'ha fornita e ne ho comprate tre. Per essere sicura che tutto fosse successo veramente, che non fosse stato solo un sogno. Devo pur concludere in qualche modo questo video. Io spero che vi sia piaciuto il mio racconto, spero che vi piacerà il libro se lo leggerete. Per quanto mi riguarda l'ho adorato, una storia super coinvolgente, super scorrevole e incalzante, che sicuramente non è semplicemente una storia dal punto di vista storico, ma proprio una storia che si fa leggere. Ringrazio ancora HarperCollins e per il resto ci vediamo nel prossimo video. Aspettate, aspettate, un'altra cosa che vi devo dire è che ci sarà un altro video dedicato al mio viaggio a Napoli, non più su Alberto Angela, ma sull'incontro tra me e un'altra book blogger che ho conosciuto su Instagram, ma che finalmente ho potuto anche conoscere di persona. Non vedo l'ora quindi che esca il prossimo video, anche perché ci sarà un mini book haul dei libri che abbiamo comprato. Cioè, non è che possiamo andare insieme in giro e non comprare libri. Cioè, che book blogger siamo, se no? Scoprirete nel prossimo video però chi è la persona che ho incontrato. Adesso non ve lo dico. Alla prossima!